Uscendo al casello Capriate, sulla A4, si scopre San Giovanni Bianco, pittoresco borgo medievale e crocevia nel passato di mercanti, giullari e cantastorie, dove nacque la maschera dell'Arlecchino. La campagna, le strade e le case richiamano le ambientazioni in cui il servitore di una potente famiglia di mercanti veneti riuscì ad immaginare e a dare forma alla figura del servo buffone. Nel palazzotto dei Grataroli si respira ancora l'essenza della commedia dell'arte tra costumi e cimeli e all'ingresso della Casa Museo compare una riproduzione dello straordinario fresco risalente alla tradizione dell'omo selvadego diffusa nelle comunità retico-alpine e originale maschera di matrice dell'Arlecchino.